Nazionale L'Olivier Gioieuse e l'Andolfo in lotta per il comando avanti a Oxford Rock All'avanguardia Olivier Gioieuse, secondo all'esterno l'Andolfo, in terza Oxford Rock Quarto lungo la corda Linus Whip con i fuori in Nemo Grip Poi all'esterno Napoleone BFB avanti Amalele Almar Quindi Nailas AS, poi Naglo Wise Per corsi esterni Nailas AS, poi Orietta Sem Si esce dalla piegata con l'Andolfo che ha scavalgato Olivier Gioieuse in terza posizione Oxford Rock poi all'esterno Nemo Grip 34 Il quarto iniziale la media di 1.16 Davanti alle tribune risale Nailas AS Nella sua scia provava Nailas AS, più all'esterno provava anche Olmo 46.2 per il 600 Tacco della seconda e penultima piegata con l'Andolfo in vantaggio Secondo all'esterno Noumond HBD di misura su Nemo Grip e Olivier Gioieuse Seconda frazione che porta gli 800 a 1.023 alla media di 1.17 Sempre l'Andolfo al comando dopo il secondo quarto completato in 31.9 L'Andolfo in vantaggio il giro 17.5 Tanto cala Noumond HBD Marco Castaldo sposta Nailas AS La progressione di Nailas AS Che è anticipato da Nemo Grip L'Andolfo al comando Completamento della piegata Ingresso in addirittura 29.4 il terzo quarto L'Andolfo avanti a Nemo Grip che sta attaccando L'Andolfo all'interno Nemo Grip a largo Poi Olivier Gioieuse Quindi Nailas AS L'Andolfo continua l'avanguardia su Olivier Gioieuse Nel finale L'Andolfo Olivier Gioieuse a largo Oxford Rock Che finisce in seconda posizione Da un capo all'altro Conchiusa in 29.5 Con un tempo totale di 2.01.2 La media al chilometro di 1.15.9 L'Andolfo e Michele Becchis Onorano il pronostico Quota al totalizzatore 1.57 5 L'Andolfo 3 Oxford Rock 4 Olivier Gioieuse Il passaggio al traguardo Per il premio Ristorante Urbani 5 L'Andolfo e Michele Becchis